Scorre il tempo, veloce, tra storie di uomini, epoche ed espressioni artistiche che ci portano indietro nei secoli, testimoni di una ricchezza unica, un patrimonio del quale siamo custodi in un luogo senza tempo, che vive di un prestigio strategico, che sa di corti e di virtù e che oggi attende una nuova veste, pronta ad accogliere chi merita di ospitarla. A Montalto delle Marche predomina un imponente e fortificato Palazzo Signorile, il Palazzo Sacconi, un rarissimo edificio di grande architettura, eretto nel 1888 dalla famiglia dei Conti Sacconi. Nel cuore dell'Italia, in una valle che apre la visione al mare e alle montagne, si può vivere l'emozione autentica, potente, prestigiosa dell'Italia Way of Life. Avvolti tra l'arte e la cultura che la distingue con il gusto genuino dei prodotti della sua terra. Palazzo Sacconi, così, può trasformarsi in un luxuri share motel, ospitare ragazzi in summer school o diventare una nuova residenza di lusso per godersi tutto il fascino d'altri tempi. Imponente nella struttura, raffinato nei dettagli, Palazzo Sacconi porta con sé lo stile e la firma dell'architetto Conte Giuseppe Sacconi. Riconosciuto dalla soprintendenza di Ancona come bene di interesse artistico-culturale, è un palazzo dalla maestosa bellezza che lascia spazio all'infinita immaginazione dei sogni. Perché i sogni non sono altro che reminescenze, ricordi di una vita passata, che trovano nella rinascita la possibilità di diventare realtà. La stessa realtà che vedi nei tuoi sogni. Palazzo Sacconi, Italian Way of Life Palazzo Sacconi, Italian Way of Life